Io sono Maurizio Caluso, sono geometra, ho 48 anni, ho due figlie, Roberto e Aurora, che hanno 16 e 14 anni. Sono un piccolo imprenditore, sono stato un dipendente per le imprese, ho lavorato spesso fuori, per anni, ho fatto la gavetta. In ambiti diversi ho preso tante cose e queste cose che ho preso vorrei metterle a disposizione della collettività, a disposizione di Brolo. Mi candido, perché mi candido? Mi candido soprattutto per le mie figlie. Loro vanno a scuola, mi chiedono papà, quali sono le opportunità che ci offre in questo momento Brolo? Sentono me che mi lamento, il poco lavoro, le poche prospettive, sanno che io per andare avanti sono dovuto andare diversi anni fuori e pensano, io papà andrò fuori, imparerò fuori e probabilmente resterò fuori, perché se devo tornare qua tornerò nelle vacanze, verrò a trovare te, verrò a trovare i miei familiari, finché saremmo vivi, perché poi probabilmente neanche questo. Io cosa penso? Io devo dare alle mie figlie prospettive diverse, devo dire alle mie figlie voi andate fuori, sono favorevole, andate, imparate, appropriatevi di conoscenze che qua magari non ci sono, però poi tornate e tornate quando? Io mi metto in questo momento in campo, mi metto in gioco per fare in modo che quando voi tornate possiate trovare un terreno favorevole, un terreno in cui voi possiate investire le vostre esperienze. Perché mi metto con Carmelo Chiuto? Carmelo Chiuto intanto, Abruolo rappresenta un nuovo volto, non nel senso politico, nel senso delle persone che riescono a guidare, nel senso di persone che hanno una ferma convinzione di ciò che fanno, è una persona onesta, è una persona integra, io lo sento quando parla a carattere, è una persona che difficilmente cambia passo, nel senso che corre, vuole raggiungere i suoi obiettivi, vuole farlo velocemente, non accetta il compromesso, politicamente diciamo non è un politico di stati di caratura, perché una politica spesso è compromesso, bisogna arrivare a patti, le persone che non arrivano a patti ottengono più risultati però, e questo è il motivo per cui Abruolo serve una persona come Carmelo Chiuto, una persona che non raggiunge compromessi se non quando raggiungere il risultato finale. Tanti sono i programmi che abbiamo in mente, tante sono le soluzioni, i problemi che si devono risolvere, le soluzioni che possiamo proporre. In questo caso io di cosa vorrei parlare? Vorrei parlare del servizio acquedotto, un servizio che, a detta di tutti, è un servizio che non funziona bene. Noi abbiamo intenzione intanto di rimodulare quella che è stata la tariffa dell'acqua che è stata presentata a novembre del 2013. Noi non siamo un paese dove una famiglia con una sola persona può pagare 181 euro solo di diritto fisso. Una tariffa di 181 euro non la può pagare neanche una famiglia con 4 o 5 persone, perché 181 euro l'anno solo di diritto fisso sono troppi. Noi cercheremo in qualche modo di abbassare questa tariffa, di cercare di trovare un compromesso tra quello che deve essere la somma spesa per il servizio acquedotto e quello che è veramente l'esigenza del servizio acquedotto. Si può risparmiare sul servizio acquedotto. Noi abbiamo diverse pompe che pompano la Scinà e portano l'acqua dal torrente Sant'Angelo, praticamente c'è il campo sportivo, fino a Sellica. A Sellica abbiamo delle sorgive che non vengono più utilizzate, l'acqua abbiamo delle sorgive che non vengono più utilizzate, perché magari nel tempo si sono trovate delle sostanze inquinanti, perché magari vicino ci sono delle aziende agricole che hanno disservato per cui l'acqua non è più buona. Noi faremo ulteriori ricerche, cercheremo altre sorgive in modo da portare all'interno dei nostri serbatoi di Sellica, di l'acqua a scendere fino a Parrazzà, acqua che non debba essere pompata negli acquedotti, negli serbatoi con la corrente elettrica, motivo della maggiore spesa del nostro cliente acquedotto. Il nostro acquedotto poi ha bisogno di almeno due persone, due persone che seguano costantemente l'acquedotto, due persone che in mancanza di uno ci sia almeno un'altra persona più un supporto nei casi di emergenza. Non può essere una sola persona che lavora 4 ore al giorno, debba fare gli straordinari, possibilmente non pagato, con una qualifica non adeguata, non può essere rincorso giorno e notte e non ha nessun riconoscimento, questo deve cambiare. Noi probabilmente metteremo almeno due acquedottisti, metteremo un terzo acquedottista part time che servirà soprattutto magari nel periodo estivo quando c'è più usura, più consumo di acqua, in modo che il servizio abbia spiegato in migliore dei modi. Avremo più cura del servizio acquedotto anche tenendo presente che gli acquedotti vanno meno tensionati, vanno puliti. Ci deve essere un servizio di colorazione automatico che garantisce la potabilità dell'acqua, si devono pulire periodicamente tutte le vasche di accumulo, si devono controllare tutte le pompe, tutti i servizi e tutti i pozzi in modo che l'acqua da dei pozzi esca e possa essere portata nell'acquedotto con una potabilità garantita al 100%. Tutte queste cose ci sono, ci sono potabilizzatori, ci sono controlli con raggi ultravioletti che abbattono i batteri dell'acqua, ci sono i cloratori, non funzionano spesso, di conseguenza dobbiamo berci l'acqua che ci passa il comune, come si suol dire. Allora andiamo a comprarla, magari nelle bottiglie, spendiamo soldi, oltre all'acquedotto, i servizi acquedotto che materialmente paghiamo. L'altro problema qual è? Il problema delle acque bianche e delle acque nere. Tutta la parte a monte della nazionale è tutta con l'acqua divisa, ci sono acque bianche e acque nere, condotte per le acque bianche, condotte per le acque nere. Tutte le nuove lottizzazioni sono tutte con l'acqua divisa. Il problema dove nasce? Sotto via nazionale, diciamo sotto la via principale di Brolo, questo problema esiste perché le condotte, malgrado siano seppur divise, hanno un problema di una condotta unica. Tutte queste acque, comprese quelle che vengono da monte, confluiscono in un solo tubo, arrivano sotto il ponte della forrovia, mi ricordo hanno messo un grosso condotto da 1.200 mm, per cui una bella condotta, viene sul via marina e in questo punto dove c'è il bar del sole si mette in un grosso culettone, che è un serbatoio, saranno almeno i 500-600 mila litri. Questo culettone finisce davanti alle cicala, giusto per dire che questa è la nostra zona turistica e noi il turismo la facciamo in questa fascia qua. Quando piove, queste grosse quantità di acqua, soprattutto nel periodo estivo, arrivano con grande velocità in questa vasca. Questa vasca normalmente si riempie. Per alcuni anni c'è stato il problema del lagamento di via marina, i pozzetti che saltavano, il liquame di acqua bianca e acqua nera che usciva dai chiusini, le persone dentro casa intrappolate dalla fognatura. Ci siamo inventati queste paradigme famose, una l'abbiamo messa davanti ad un altro ristorante, giusto per non perdere l'abitudine, da Don Santo, una ce l'abbiamo qui sotto i piedi, davanti al Gattopardo, davanti al bar, davanti all'altro hotel, una ce l'abbiamo davanti alla cicala, perché il nostro è un paese di vocazione turistica, per cui non ci dobbiamo far mancare nulla. Non ci deve mancare neanche la paratia che si apre e scarica in mare tutto. Anche quello che abbiamo visto lo scorso anno, che è stato ben pubblicizzato e ci ha fatto tutta questa pubblicità e ci ha dato tanta notorietà, diciamola così. Anche questo è un problema che noi sappiamo come risolvere. Abbiamo delle idee concrete, abbiamo un ufficio tecnico capace, noi proporremo all'ufficio tecnico la progettazione, proporremo all'ufficio tecnico non solo la progettazione, cercheremo per l'ufficio tecnico i finanziamenti a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, che sono tanti e spesso torneranno indietro, non utilizzati, o per scarsa progettazione o per mancanza di appoggi, non posso dire questo. Il motivo è, il chiuso è che sostanzialmente Brolo da 30 anni, da 40 anni non è riuscita a dividere le acque da via marina a scendere. Noi troveremo i finanziamenti, in qualche modo faremo, l'avvocato ci darà una mano la possibilità di ottenere questi finanziamenti e noi cercheremo in qualche modo di chiudere questo difficile periodo. La nostra amministrazione, ripeto, intanto eliminerà questo disagio, poi utilizzeremo i soldi per l'acquedotto e per quello che è il normale servizio acquedotto, verranno spesi per l'acquedotto. Fino a oggi l'acquedotto, tutti questi soldi che sono stati accumulati negli anni fra tasse fisse e solo il discorso dell'aumento, dell'esubero del pagamento d'acqua che adesso credo sia stato portato a 1,50 euro. È servito essenzialmente per fare cassa, tutta questa cassa che loro hanno utilizzato per scopi diversi dal servizio acquedotto. Il servizio acquedotto ha una spesa corrente che non superare 300-350 mila euro. Noi mandiamo inoltre la fognatura al depuratore. Il depuratore cosa fa? Fortuna vuole che paghiamo al numero di abitanti, perché se pagassimo a conferimento a metri cubi di materiale che mandiamo pagheremmo cifre che neanche possiamo più immaginare. Il discorso è semplice. Se noi razionalizziamo tutti questi servizi e razionalizziamo la spesa potremmo abbattere i costi, potremmo far sì che anche le famiglie con disagio, le famiglie con basso reddito, gli anziani, anziché pagare quello che oggi credo che siano 104 euro, possono pagare meno. Perché una famiglia con una sola persona, un pensionato, due persone, sono persone che non possono probabilmente permettersi di pagare 100 euro di acqua al mese, 180 euro di acqua al mese, perché possibilmente prendono 500 euro al mese di pensione e non gli basta neanche per l'affitto. Noi dobbiamo abbattere questi costi, ridurli il più possibile, perché il servizio acquedotto a Brolo non è un banco matto. Ora passo l'avvocato, chiudo il mio sindaco alla parola. Grazie Maurizio, grazie per quello che hai detto, grazie per aver dimostrato che nella nostra lista ci sono persone competente, oltre che pulite ed oneste. Grazie a voi per avere ancora la pazienza, dopo tutto quello che abbiamo sentito e visto, di essere presenti e di ascoltarci. Grazie a Brolo, perché finalmente ci darai la possibilità di sanare e di migliorare questo comune che è eccezionale, che è eccezionale nella sua struttura, che è eccezionale nella sua collocazione, che è eccezionale questo comune nelle persone splendide, nelle persone capaci, negli imprenditori, nelle volontà pulite ed oneste di questo comune. E grazie a permettetemelo di dire. Ambipolo, ecco. Purtroppo lo devo tenere in mano, il microfono viene più complicato. Meglio però se lo... preferisco avere le mani libere come le ho sempre avute. Va bene così. Dicevo grazie a tutti voi, ma questa sera un grazie se lo merita Salvo Messina, da parte mia. Un grazie Salvo Messina per avere detto quello che tutti noi sapevamo, per avere detto da protagonista, perché tu eri dentro quella situazione, che tutti i cittadini di Brolo sapevano che dire l'accoto o dire Germanà è la stessa cosa, lo era in passato e oggi dire zio o dire nipote è ancora la stessa cosa e forse anche peggio. E questo lo hai saputo svelare, lo hai riferito e chi ha voluto capire ha capito e chi deve dire basta a questa situazione sono i cittadini di Brolo, sono i cittadini di Brolo che diranno certamente basta a questo presentarsi in un modo, litigare di giorno e accordarsi in cattivo meretricio la notte. Questi soggetti che passano il giorno a sembrare litigiosi per poi compromettere la vostra libertà e la vostra dignità. Perché la compromettono? Perché io vorrei sapere, alla luce di quello che è successo ieri sera, visto che Salvo Messina aveva conservato l'SMS che aveva ricevuto in quel periodo che facevano la lista, facevano finta di litigare, mentre invece stavano insieme a contrattare. Quando il consigliere Gaetano Scaffi di Lalloro è candidato a vice sindaco in quella lista, gliel'ha mandato per SMS e mi piace ripetere, ed è solo questo inciso che faccio da parte dell'intervento di ieri di Salvo Messina. Quando Scaffi di Lalloro gli ha scritto a Salvo Messina, a me dispiace per Nino, e sappiamo che è il Nino, e anche per quel partito, ma il problema è che Mana è semplicemente incapace, assolutamente incapace, è riuscito nell'impresa titanica di fare peggio di suo padre. Questo è stato certificato e detto direttamente dalla persona che dovrebbe essere il vice sindaco indicato da Germana in quella competizione. Quindi persone che fra di loro già si odiano, pensate cosa potrebbero fare se dovessero malauratamente governare questo Paese. Vi rassicuro, dopo quello che è successo ieri sera, statene certi, questi signori al Comune andranno solo per i certificati, non avranno nessuna possibilità di vincere le elezioni. Ed è giusto ricordarlo quello che è stato fatto e lo doveva fare chi c'è stato nel Comune, perché io da quando sono candidato compatibilmente con i miei impegni professionali mi sto regando tutti i giorni al Comune per controllare quella che è la disponibilità di cassa, per sapere come sono i conti e qual è la possibilità di aiuto per questo Comune. È una cosa strana e assurda, l'avevo detto già in tempi non sospetti quando ho fatto il comizio all'ACCO, che nelle casse del Comune di Brolovi sono delle disponibilità abbastanza sufficienti per poter governare adeguatamente questo Paese. Delle disponibilità che non ho capito per quale motivo debbano ancora essere accantonate e lasciate da parte, non so per quale richiesto o per quale compromesso. Io penso che è un segnale di democrazia quello che sto facendo in questi giorni di imporre negli uffici amministrativi del Comune di Brolo, andando tutte le mattine, che per lo meno quelli che sono i pagamenti del diritto allo studio, la fornitura dei libri e di testo che non pagano al Comune dal 2010-2011 fino all'ultimo anno scolastico, che vengono immediatamente erogati, immediatamente consegnati prima delle elezioni. Di restituire queste somme che sono una cifra di solo 17-18 mila euro, quando in cassa c'è oltre un milione di euro. Per quale motivo consentire a queste persone di soffrire ancora, senza prendere quelle somme che sono il rimborso del diritto allo studio, cioè quelle che erano le somme pagate per l'autobus, le somme pagate per i libri, le somme pagate per le pulizie. Per quale motivo non debbano restituire queste somme? Statenei certi che prima delle elezioni questo candidato al sindaco riuscirà ad imporre la sua volontà sin da prima. Così come ho detto nel comizio precedente, quando ho ricordato che quel mausoleo che è stato chiuso e sigillato, che pur essendo in regola da sette anni aspetta il rilascio della concessione, mi è stato dato conferma proprio ieri, sentendo Salvo Messina, quello che succede nell'ufficio tecnico. Saprò impormi anche nell'ufficio tecnico. Sono stato cinque anni in commissione edilizia dove ho visto quando si servivano per aiutare gli amici o gli amici degli amici. Sono passati venti anni, la situazione è ancora analoga e uguale. All'ufficio tecnico gli darò io il lavoro da svolgere, ma innanzitutto debbono guardare i cittadini come cittadini normali. Non ci sono a Brolo cittadini di serie A né cittadini di serie B. Tutti i cittadini di Brolo sono uguali nei confronti del comune. Perché mi impegno quando dico che il comune deve essere il comune amico e non deve essere un comune dove vanno semplicemente gli amici e ottengono delle cose soltanto dietro cortesie. Non accadrà mai più. Ci sarà una selezione con i funzionari. Verranno premiati soltanto gli impiegati e i funzionari che hanno la possibilità di soddisfare le esigenze della collettività. Quando un soggetto entra nel comune perché ha un'esigenza, non deve uscire dal comune se il suo problema non è risolto. Questo è l'impegno di persone corrette ed oneste che vogliono cambiare veramente l'amministrazione. Perché in quel modo, quell'inciugio che c'è stato per 20 anni non si deve ripetere perché lo dovete certificare voi. Così come ricordate in un mio precedente intervento o primo o dopo queste cose finiscono. È finita nel 1943 una dittatura che durava da 20 anni. È caduto Mussolini nonostante quello che aveva. È caduta la democrazia cristiana e i partiti dell'arco costituzionale nonostante quello che hanno fatto. È caduto bene o male pure Berlusconi dopo 20 anni di amministrazione. Ma voi pensate che l'accoto e il persone, se si pensa che ancora il meo tolaccoto deve proseguire. È un'offesa pensare che quando c'è il commissario ancora fanno delle richieste di decreto aggiuntivo per 90 milioni di euro con un diritto di averle che lascia molto a desiderare e che nessuno si permette di fare l'opposizione perché evidentemente prima di fare quel decreto aggiuntivo si è parlato con gli interessati e si sapeva che nessuno avrebbe dovuto opporre quel decreto aggiuntivo. Nel frattempo però con i belaggi che ci sono, ci sono i precari, ci sono le persone che soffrono che hanno bisogno di qualcosa di certo dopo tanti anni. E queste persone vengono contattate addirittura dalla revisore dei conti, moglie di un candidato, vengono contattate esclusivamente perché ci sono le elezioni per sapere qual è il problema. Ma come qual è il problema? In tutta la Sicilia viene posta questa situazione, in tutta la Sicilia si parla di queste problematiche. Tutti i paesi della Sicilia, bene o male, qualcuno o più di uno o tutti sono stati stabilizzati. A Brola debbono restare in questo modo perché qualcuno ha interesse che rimangano queste situazioni, perché qualcuno ha interesse a sfruttare lo stupido di turno che candida la stupida amica o sorella dell'impiegato per poter poi sfruttare e chiedere il voto a quegli altri 70 che non si possono candidare e così sfruttare con queste persone che soffrono e sfruttare 60-70 voti sicuri. E ogni elezione c'è sempre lo stupido di turno che si candida e lo stupido di turno che va a chiedere con ragione a queste persone. Per non parlare poi, tra le altre cose, di quello che sono i programmi degli altri che non ne ho sentite proprio, stasera forse parlavano di differenziata, stasera forse parlavano di altre cose altrove, ma non mi interessa perché dopo che noi iniziamo un percorso, questo percorso ci viene copiato perché non hanno nessuna possibilità. Il loro percorso si chiama semplicemente, scusatemi se mi ripeto su certe tematiche, ma si chiama sempre zio e nipote perché loro pensano che i cittadini di Brolo sono ancora tanto stupidi a non capire che se ci sono delle sofferenze particolari, se questo comune di Brolo non ha progredito. Se questo comune di Brolo è l'ultimo comune della zona, è dovuto a quel medito racconto dove si vince con la maggioranza e si governa insieme alla minoranza, dove ci si mette d'accordo sempre, dove si mette, si trova l'accordo sulla testa e sugli interessi e sui diritti dei cittadini di Brolo. E oggi però c'è la possibilità dell'alternativa, oggi c'è la possibilità di cambiare, oggi c'è la possibilità di poter discutere e di affrontare con persone competenti. Avete sentito Maurizio quando parlo di persone competenti? Avete visto nei giorni precedenti le persone che lavorano e che stanno sulla strada? C'è Antonella, mi piace ricordarla, che in divisa viene perché deve tornare di corsa a lavorare. Ci sono gli altri candidati che sono uomini e donne della mia lista, che sono impegnati giornalmente nel mondo del lavoro e nel mondo della professione. Persone che con la loro faccia si sono candidati insieme a me perché sanno quali sono le problematiche del comune di Brolo. E oltre alle problematiche del comune di Brolo che loro apportano al candidato sindaco hanno il conforto di avere la persona che da anni li conosce queste persone per motivi professionali. Così come conosco il problema relativo all'acquedotto e il problema relativo al depuratore consortile dove quando è stato istituito, pensate un po' nel 1981, già io facevo parte di quella commissione per l'insediamento e i moduli già nell'81 erano insufficienti. immaginate se si può ancora pensare nel 2014 continuare a utilizzare quel tipo di depuratore che ovviamente nel momento migliore, nel momento della funzionalità massima c'è un espanditore che si solleva e che proprio scarica tutto a mare perché c'è il troppo pieno che arriva in un certo momento e guardate un po' quando è che arriva questo troppo pieno? Ad agosto. Quando proprio non dovrebbe arrivare nulla a mare, quando non dovrebbe assolutamente essere inquinato il mare, ma c'è un sistema tale che siccome non è sufficiente, i due moduli non sono sufficienti per poter mandare avanti il depuratore, proprio ad agosto le acque non sono più depurate. E questo deve finire, questo deve essere modificato perché c'è la possibilità di modificarlo. Ci sono dei tecnici che hanno indicato come, quando e dove intervenire. E questo lo faremo con la capacità e la competenza non soltanto di chi vi parla ma di chi compone la mia squadra. Così come vi ho raccontato nell'ultimo mio intervento di quella possibilità di fare progredire questo comune, di farlo uscire dalle sacche delle difficoltà economiche, di far riprendere l'economia con piccoli interventi, quelli di ristrutturazione. C'è un comune che ha un bilancio di 8 milioni di euro l'anno e questo bilancio deve essere messo a disposizione, a garanzia, tipo una fideossione per tutti i privati, i cittadini che volessero realizzare una ristrutturazione che volessero addirittura ampliare la propria singola abitazione. In questo caso è il comune che garantisce il prezzo da queste persone e il comune oltre a garantire con il proprio bilancio che non gli costa nulla poterlo fare, si addossa, si mette carico degli interessi che maturano nell'erogazione di queste somme e senza nessuna strategia o senza nessun laccio o lacciuolo che possa frenare questa possibilità di erogazione di somme. Perché? Perché si può fare? In quanto in realtà chi realizza, chi amplia, chi crea un immobile ha già la propria casa a garanzia. Gli manca la possibilità di ottenere il prestito e il prestito verrà concesso in quanto c'è la garanzia, la fiduzione del bilancio del comune di Brollo e qualora la banca dovesse creare problemi è semplice, si cambia la banca perché 8 milioni fanno cuore a tutte le banche. Queste sono idee che possiamo trasmettere e con la mia capabilità, la mia conoscenza e la mia correttezza insieme a tutti coloro che stanno con me nella lista e a tutti i tecnici che verranno con me ad amministrare dal 26 maggio in poi questa amministrazione, riusciamo a ottenere con soddisfazione delle risposte che valgono per tutta la collettività, non per dei singoli, non per i cosiddetti palazzinari, non per coloro che fino adesso hanno riempito le loro tasche, di coloro che hanno fino adesso ottenuto tutto e più di tutto senza lasciare mai spazio l'ingordigia di questi 20 anni e di una elevazione così grave che non è paragonabile con nessun latroginio in nessuna amministrazione d'Italia. Non ci sono paragoni perché si dovevano costruire solo determinate persone, dovevano ottenere benefici solo determinate persone, dovevano poter amministrare soltanto coloro che erano i padroni del pallone, come ho raccontato ieri, è guai se possono giocare pure gli altri, guai se intervengono pure le altre persone o se c'è la possibilità dell'alternativa, dice il pallone è mio e il gioco che voglio io e allora intervengono con dei comizi, ieri uno e domani ne sentiamo quell'altro, quello più grave, più grosso, vediamo cosa ci può raccontare che è una persona onesta e corretta, sentiremo quest'altra giustificazione perché come dico dal primo giorno, ormai a Brolo è in atto la rivoluzione, ormai queste persone si debbono convincere che non contano più niente a Brolo, si debbono convincere che la loro era è finita, che le loro teste sono state già chigliottinate in senso metaforico, sono state chigliottinate e stanno rotolando per il paese di Brolo e ognuno di noi può dare un calcio a quella testa che vi ha sfruttato per 20 anni, dare un calcio con il voto, votando il 25 maggio per il cambiamento, per il cambiamento senza esperimenti, perché è vero che ci sono 5 liste, è vero che ci sono 2 liste che pensano come al solito di fregare tutti parlando di maggioranza e minoranza perché si mettono d'accordo in quel contratto di meretricio che hanno sottoscritto e sottoposto sopra la volontà dei cittadini di Brolo, ma c'è anche pure chi pensa di specularci, chi pensa di approfittarli, l'alternativa c'è e l'alternativa c'è perché si chiama competenza, si chiama qualità e si chiama onestà e non voglio toccare altri argomenti, ma oggi ci rimango male, ci sono rimasto malissimo quando un soggetto in un question time, l'hanno chiamato, fatto da Canale Sicilia, quando sentendo le opinioni di ognuno, e lo potete collegare e leggerlo, quando ognuno di noi ha raccontato in modo coliardico cosa pensa un aggettivo per gli avversari, un soggetto si è permesso di dire che lui è il migliore e gli altri quattro sono dei collusi, farà butto che non sei altro, che te ne deve stare a gioiosa e non deve venire qua a indenzare a nessuno, ti ricordo che tu non solo non conosci Brolo, ma non conosci le persone di Brolo, io per quello che hai detto non ti faccio la querela, ma ti dico che tu di Brolo e delle persone di Brolo non capisci un cazzo, è stata gioiosa per piacere, questa purtroppo è la situazione di Brolo, questa purtroppo è la situazione di Brolo, perché ti arriva qualcuno che ti deve discutere in un determinato modo, perché si alza dall'olimbo della sua posizione e dice che gli altri sono corrotti, ma che capisci di Brolo, poco fa c'erano i due carabinieri che adesso non ci sono più, volevo sapere dove se ne sono andati pure loro a Giorgio, visto che con me è tutto tranquillo ogni volta, quindi graderei gentilmente se posso avere la possibilità di continuare e di parlare in questo paese, dove il degrado si arriva a questo, dove c'è qualche stupido che lo fa bere e lo porta apposta, ogni volta che parlo io me lo consegna di proposito, perché c'è qualche cretino farà butto, perché lui non ha colpa, perché non capisce niente, ma voglio sapere quei due carabinieri che non ha, dove se ne sono andati, dove se ne sono andati, perché la debbono smettere di fare il giro, di rappresentarsi la loro presenza e perché invece non sono efficienti per niente, tanto è vero che a Brolo abbiamo un furto ogni giorno e non hanno ancora preso nessuno. Questo è il punto dove siamo arrivati in questo paese, in questa cittadinanza, questa è la situazione purtroppo, che dobbiamo patire e dobbiamo gestire, che dobbiamo patire e dobbiamo gestire, perché se uno non fa da sé, qua, non ottiene niente, perché allora ci dobbiamo mettere tutti a casa l'antifurto, dobbiamo spendere soldi, va bene, ci dobbiamo attrezzare perché se ci sono gli anziani non li dobbiamo lasciare soli, perché non c'è nessuno che ci aiuta, perché ci dobbiamo comportare con i malati o con le persone che hanno delle disabilità, ci dobbiamo arranciare perché non c'è nessuno sportellamico e perché poi nella cosa più volgare, nella cosa più brutta che esista a Brolo, gli anziani del paese di Brolo sono costretti a rivolgersi a quei padronati diretti da persone ignoranti ed incompetenti che li usano solo ed esclusivamente per portarli a votare e poi per il resto li abbandonano, gli fanno la dichiarazione di rendere con i piedi e quindi tutte sbagliate, ma a loro non gli interessa, ci pensa, stavo dicendo un termine e non lo dico, ma voi sapete a chi mi riferisco? Perché ha l'esigenza di doverle legare tutti uno per uno, non gli interessa la collettività, è un'offesa a quell'intelligenza di queste persone perché questi poveri anziani avranno dei figli, avranno dei nipoti, avranno dei parenti o dei vicini di casa, chiunque potrebbe fargli la dichiarazione dei redditi una volta all'anno a persone che di reddito danno solo la pensione, chiunque potrebbe scrivergli quello che gli scrive quello soggetto che non ne capisce niente di niente e si limita semplicemente a compilare un 730 ad escapoto degli stessi interessati, però li porta al padronato, li seleziona, gli fa la foto, li cataloga e gli spiega che quando ci sono le primarie deve votare per Genovese, vi ricordate le primarie dovevano votare per Genovese che oggi lo rendevano, quando ci sono le primarie dovevano votare per non so chi perché tanto io non faccio parte di quelle situazioni e però poi servono perché ci sono le regionali, ci sono le elezioni europee e questi soggetti anziani e poverini che li tengono in vita solo ed esclusivamente per poter votare, li prendono, li portano, li baciano, li accarezzano e li lasciano a casa e li abbandonano al loro destino. Io ho spiegato l'altra volta qual è il nostro programma per quanto riguarda gli anziani e per quanto riguarda le persone che hanno disabilità e le persone che non hanno la possibilità di stare da soli e di potersi da soli reggere e poter da soli amministrarsi e allora io ho detto che per gli anziani noi abbiamo un progetto che non è un semplice progetto di aiuto, di assistenza ad hoc limitata alle elezioni, noi vogliamo ripristinare quello che è il diritto dell'anziano, noi vogliamo creare un centro di urno per gli anziani e per coloro che hanno disabilità, ma non lo diciamo a parole, l'abbiamo sviluppato, abbiamo parlato e abbiamo trovato la soluzione come poterlo fare. Noi questo centro lo faremo a Brolo perché gli anziani debbano stare al centro di Brolo perché prima era previsto dietro alla caserma dei Carabinieri la realizzazione della casa per gli anziani e poi il Medo Tolaccoto, se comprati i terreni e come sapete là sono diventati edificabili e ha edificato, chi ha edificato non certamente la collettività e il centro per gli anziani l'hanno spostato di fronte al cimitero, sono finiti i soldi ed è rimasto solo una struttura compilata solo per un piano dove viene adebito adesso per quella scuola professionale che si svolge a Brolo. Ebbene c'è un piano che è rimasto vuoto, in quel piano vuoto noi porteremo il comune, non gli anziani. Gli uffici comunali si trasferiranno con me tutti quanti in quella struttura che verrà ripristinata e verrà completata e quello che è il municipio di Brolo, quella struttura che ha di fronte una bella villa comunale che deve essere salvaguardata e una scuola a piano terra dove può essere fatta la mensa, quello sarà il centro di urno per gli anziani, al centro di Brolo perché gli anziani e le persone che hanno disabilità debbano essere sempre al centro dell'attenzione. Questi sono i programmi concreti che vi possiamo offrire e che vediamo la possibilità di farlo perché a noi non ci interessano determinati business di costruire e di lottizzare, da noi non ci sono lottizzanti, da noi ci sono queste persone che avete visto e sentito ogni giorno, quelle persone che sono in divisa e che vengono perché poi devono subito correre a mettere e saguitare il 118, quelle persone che lavorano di giorno e anche nei giorni festivi, quelle persone che si buscono come si suol dire il pane con sacrificio e con sudore e che non hanno prevenne da nessuno. Queste sono l'amministrazione, questa è l'amministrazione occhiuta, con questi soggetti riusciamo noi a modificare radicalmente risanando e migliorando questo Paese. Noi abbiamo progetti per far riaprire e ricominciare l'economia, per aiutare i privati e così lavorano tutti gli artigiani e si riprende l'economia di Brolo nel giro di pochi mesi. Abbiamo la possibilità di trasferire tutti gli uffici dell'amministrazione in quel obbrobrio che verrà realizzato, risanato e ristrutturato e poi dove c'erano gli uffici comunali, dove qualcuno dalla finestra si poteva fare il certificato non lo farà più, deve scomodarsi anche lui. Il signor delle lottizzazioni dovrà andare anche lui negli uffici comunali come vanno tutti i cittadini di Brolo. Questa è la nostra volontà e questo è quello che andremo a fare e quello che vogliamo fare e siamo sicuri che noi possiamo farlo non soltanto perché abbiamo le idee, abbiamo la competenza, abbiamo la volontà di fare queste cose, ma cosa più importante oggi, dopo quello che abbiamo sentito ieri e da quello che sentiremo domani, noi abbiamo l'onestà, noi abbiamo l'onestà di poterle dire certe cose e soltanto chi non ci conosce come quel signore di Gioiosa che si permette di dire che siamo tutti collusi, soltanto chi non abbia da Brolo può esprimere i giudizi negativi nei nostri confronti, soltanto quelle persone che saranno magari bravi nella loro materia ma che non conoscono nessuno, a Brolo non conoscono e certamente saranno premiati con un vero e proprio va a quel paese da parte della collettività il giorno delle elezioni. Quindi oltre a questo che sono i nostri impegni, la nostra volontà, i nostri punti strategici che li abbiamo messi nel programma, non è che ce lo siamo ricordati adesso. Oltre a questo noi riusciamo ad essere vicini in tutti i sensi alla popolazione con lo sportello amico, nel senso che dobbiamo abolire le porte, quelli che sono i progetti, quelli che sono i lavori, si debbano fare all'interno dell'amministrazione e non presso gli studi tecnici di qualcuno. Ricordatevelo, all'ultimo momento l'hanno preso da uno studio che ha la proprietà assoluta di tutte le lottizzazioni di Brolo, non so quanti ingegneri architetti ci sono a Brolo ma uno solo da vent'anni lavora, uno, uno solo e che guarda caso con la lista di l'accoto, uno solo lavora e quella la dobbiamo smettere e non ci saranno più queste anticipazioni. Avete visto come ci dobbiamo combinare? La volontà, l'intelligenza, l'impegno? No, si perdono perché c'erano due carabinieri là e poi se ne sono andati chissà dove a fare la passeggiata, no? E io di questo ne parlerò stasera col comandante e vediamo se da domani verrà il capitano per ripristinare l'ordine pubblico in questo paese. Perché io ho l'autorità e la polizia per poterlo fare e altri non lo possono fare perché c'è qualche cretino che lo fa ubriacare per portermelo qua a ogni elezione e che si vergogna lui e tutti coloro che sono con loro e che li trovate solo in due liste, in quella delle zio e delle ripote perché solo quelli hanno interesse a non farmi vincere le elezioni, a interrompere il progresso, la rivoluzione. Brolo che avanza e che vince. Il 25 ricordatevi, se volete cambiare e voi volete cambiare, dovete votare per la nostra lista, dovete votare per l'Avvocato Chiuto. Solo in questo modo metteremo fine per sempre a questo strapotere di imbroglie e di corrottele che ha inciso nella vostra libertà, nella vostra capacità, nel vostro progresso. Dobbiamo essere da domani tutti orgogliosi di essere cittadini di Brolo. Dobbiamo poter dire, quando finisce il mio periodo di amministrazione, con orgoglio quando vi chiederanno a Milano, a Torino, a Modra, di dove venite, dobbiamo dire veniamo da Brolo. Non dobbiamo dire che veniamo da Caposolando dopo essere vicino perché non lo conosce nessuno, Brolo. Nonostante tutti gli scorsi che hai fatto, Salva Messina, con la tua squadretta di tirapalle o di pallafolo, come si chiamava, dopo tutto quello che hai fatto, Brolo non lo conosce nessuno. Lo conosceranno dopo i miei cinque anni di amministrazione perché ognuno di noi dirà, sono orgoglioso di essere di Brolo. Grazie.